Ma che cos'è la comunità Slow Food Val Fontanabuona? Beh, siamo un gruppo di persone, l'abbiamo fondata tre anni fa durante la pandemia, siamo una cinquantina fra bed and breakfast, ristoranti, aziende agricole, singole persone e diciamo che lo spirito è quello di darci una mano fra noi e cercare di rilanciare la vallata. Qual è la modalità con cui state portando avanti questo rilancio della vallata? Beh, cerchiamo di fare delle attività tutti insieme, abbiamo fatto un sito internet che all'indirizzo lo potete trovare a valfontanabuona.org, cerchiamo di fare rete, cerchiamo di fare degli eventi sul territorio, insomma cerchiamo di far cadere l'attenzione dei Liguri e dei turisti sulla Val Fontanabuona. Quante sono le realtà che hanno aderito già a questo vostro progetto? Hanno aderito i 13 comuni, stiamo anche cercando di realizzare un cartello con gli stemmi di tutti i comuni in ogni ingresso della vallata, in tutti gli ingressi stradali della vallata. Un'iniziativa imminente riguarda la festa di San Valentino, che cosa state organizzando? Sì, praticamente i ristoranti aderenti hanno deciso di fare un menù speciale, sempre sul sito potete trovare sia i menù che i ristoranti che hanno aderito, e poi abbiamo pensato di fare un piccolo omaggio agli innamorati che andranno a mangiare, e quindi troveranno una piccola tavoletta di Ardesia con il simbolo della comunità e un cuore.